19 novembre de Il giornalino di Gian Burrasca Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org Registrato da Riccardo Fasol Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba 19 novembre Siamo andati alla stazione a prendere la signora Merope Castelli e Maria, che a vederla è una bambina qualunque, ma che discorre in bolognese in modo che fa proprio ridere perché non ci si capisce niente. Tutti in casa sono felici e contenti che siano venute queste nostre future parenti, e anche io ne godo moltissimo, tanto più che Caterina ha preparato due bei dolci, uno con la crema e uno con la conserva di frutta, perché ciascuno scelga secondo il proprio gusto, come farò io, che non avendo preferenze li sceglierò tutte e due. Fine del 19 novembre Fine del 19 novembre